Forse aveva meditato quel tragico epilogo, probabilmente l'aveva immaginato tante volte, magari aspettava soltanto che il figlio minorenne non fosse in casa. Così, con il ragazzino in vacanza dai nonni, Michele Partipilo, 48 anni, di Carbonara, ha messo fine a quella ormai insopportabile vita coniugale. Nella loro casa, in una zona residenziale di Casa Massima, nel Barese, ha ucciso la moglie, Francesca Scarano, di 41 anni, originaria del Foggiano, con due colpi di pistola alla testa e all'addome e ne ha spiegato le ragioni in una lettera. Una missiva tornata oggi nelle mani dei parenti, dei contenuti estremamente riservati, fatta di dettagli della loro vita familiare. Gli inquirenti ritengono che la lettera sia stata scritta subito dopo il delitto e che, riposte carta e penna, l'uomo si sia poi tolto la vita puntando la stessa arma contro se stesso e uccidendosi con un colpo alla testa. L'esito delle autopsie affidate al medico legale Francesco Introna chiariranno cause dei decessi, mezzi e modalità del delitto, aspetti che agli investigatori appaiono già piuttosto evidenti. A dare però la certezza scientifica che a sparare sia stato partipilo saranno i risultati dello stub. La Procura ha comunque aperto un'indagine per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, che se gli accertamenti non riserveranno sorprese non potrà che essere archiviata per morte del reo. Grazie! Grazie! Grazie a tutti